Siamo a prendere il ritmo popolo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eccolo dove non vedevano le cose Siamo a un po' Fimmi? Sì, sì è una cosa importante Sì, sì Sì, dà Sì Scusa, vai Viete? Peronoci, fatti una cosa Se vuoi mettere il solito C'è un'altra cosa Non è importante Sì, non facciamo la connessa Vediamo come accaddi 13, 3, 4 3, 4 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.